Sospirone di sollievo, sospirone di sollievo. Parlo di Zlatan Ibraimovic. Vi avevo già detto alle 12.30 che sono stato il primo a dirvi attenzione oggi Zlatan Ibraimovic a Roma, alla clinica Salvatore Mundi, sul Gianicolo, per una visita di controllo da parte del professor Victor Musa, lo stesso professore che a Pittsburgh l'aveva operato insieme a FredDV in occasione dell'infortunio, purtroppo a Manchester, il grave infortunio del ginocchio. Il professore ha esaminato la situazione e si è deciso subito per una artroscopia. Io ve lo dico, apro una parentesi, quando leggo terapia conservativa, chissà perché, ricordo le terapie conservative nel passato a Serginio, ricordo le terapie conservative nel passato a Nesta, che non hanno mai portato, chiaramente prima di operare ci si pensa tanto, però dopo questa terapia conservativa il ginocchio era lo stesso dolente, allora operazione in artroscopia di cleaning, durata circa 40 minuti, cleaning, pulizia dell'arto sinistro, insieme a Victor Musal, il professor Margheritini, presenti anche il dottor Stefano Mazzoni del Milan e il dottor Roberto Pozzoni, che è un consulente ortopedico del Milan. L'operazione durata 40 minuti, cleaning, pulizia del ginocchio, ma quello che ci interessa, ecco perché sospirone di sollievo, l'operazione ovviamente è andata bene, il giocatore osserverà quattro settimane, dovrebbe, si dice, si pensa, si ipotizza, mi sono informato, quattro settimane di riposo, oggi è il giorno 18, il 18 di luglio tornerà a Milanello per iniziare la preparazione, 18, 20, 16, più o meno. Quindi sospirone di sollievo, sospirone di sollievo, dovremmo avere Zlatan Ibrahimovic, se tutto procede e con Zlatan Ibrahimovic siamo abituati a che tutto proceda bene, l'avremo per la prima, massimo seconda giornata di campionato, quindi prima o poi dell'ulteriore sosta, per averlo perfetto in grande condizione, sia per la terza partita di campionato e per la Champions League, dove Zlatan vuole battere il record del giocatore più vecchio non mi piace, meno giovane ad aver segnato in Champions League, rubando, e questo mi dispiace un po' perché è uno dei giocatori che ho amato, anche se non del Milan, battendo il record di Francesco Totti. Quindi questo è il sospirone di sollievo, proprio perché temevo magari quando si apre un ginocchio l'ortroscopia, penso subito ai mesi, invece in quattro settimane tutto dovrebbe essere a posto e Zlatan Ibrahimovic ci auguriamo che abbia una convalescenza fruttifera che porti a averlo pronto, prontissimo all'inizio del campionato e al massimo della condizione per la Champions League. Quindi questa è la notizia che vi volevo già dare oggi, speravo di darvelo, ecco intanto vi faccio vedere per concludere questa parte del mio video il comunicato del Milan che praticamente riassume quello che io vi ho detto per quello che riguarda Zlatan Ibra Supremacy, mio idolo Ibra Emovic. L'altro tema di giornata è Sergio Ramos. Non c'è nulla, non c'è nulla. Sergio Ramos certo, forse non lo so, non ho verificato, ha parlato col Milan, c'è la moglie che ha messo dei cuoricini rossi, rossoneri, tutto quello che volete. Ma dato che le voci parlano, 20 milioni alla firma e 12 milioni di ingaggio, 35 anni, pur essendo un grande campione, voi potete subito capire che esula dai parametri del Milan. Sergio Ramos non verrà mai al Milan. Anche perché, domanda, abbiamo preso Tomori. C'è la prima parida di campionato, Milan contro X. Gioca Tomori? Se la giocano Tomori in base alla forma, Tomori chiede Romagnoli. Se Romagnoli come io mi auguro resta e come se lo augurano anche i dirigenti del Milan. Sergio Ramos, ci sono altri ruoli dove investire 20 milioni e 12. Non abbiamo dato 10 a Donnarumma dicendo che il massimo era 8 e ci buttiamo a Sergio Ramos 35 anni pur essendo un campione? No, il Milan ha bisogno di un terzo centravanti, il Milan ha bisogno di una fascia destra, ha bisogno di un altro centrocampista importante e andiamo a prendere un difensore quando il ruolo di difensore, certo, fosse arrivato avrebbe potuto dare un altro contributo di esperienza. Ma Romagnoli non ha 18 anni, Romagnoli non ha 15 anni, non ha il biberone in bocca. Romagnoli è un nazionale che ha attraversato dei problemi. Sto parlando di Romagnoli, per non parlare di Tomori, appena acquistato, è dello stupendo, è del grandissimo, del carismatico Chier. Quindi, signori, Ramos al Milan? No, ma non lo penso, abbiamo verificato, no. Ramos al Milan è un'operazione che non si farà. Per concludere altre notizie della giornata, la visita di Marco Branca a casa Milan. Ricordate l'attaccante dell'Inter, anche direttore sportivo dell'Inter, oggi agente in una società, Marco Branca, ricordo che realizzò un gol dopo pochi minuti in un derby, da attaccante d'area. Ecco, Marco Branca ha parlato, ha incontrato Daniele, anzi scusate, Ricky Massara, quello è Daniele Massaro, non c'entra, lui è uno dei nostri idoli, lavora al Milan, ma non si occupa principalmente di mercato. Allora, con Ricky Massara e con Paolo Maldini e si è ipotizzato, si sono ipotizzate diverse figure e ogni tanto fra queste figure c'è un giocatore certamente di valore, Iconet, è un giocatore di fascia del Lille. Ecco, mi sento di dire, anche perché mi ero informato già nel passato, che Iconet non è un giocatore che proprio soddisfia a 360 gradi i dirigenti del Milan, è un giocatore di buon valore, ma proprio sul piano caratteriale non è che sia l'ideale per le figure che vorrebbe il Milan, che vorrebbe il club. Quindi Iconet, dimenticatelo un po', secondo me. Chiudo ricordando anche un altro punto riguardante tonali, non ci sono per adesso novità, ma c'è un aspetto finanziario interessante di cui vi voglio parlare oggi nel mio video di domani mattina, quindi non vi parlo oggi ma domani mattina, di un aspetto interessante legato alla trattativa tonali, un aspetto proprio legato economico della questione, finanziario per meglio dire, delle opportunità finanziarie che se tu chiudi la trattativa prima del 30 giugno o dopo cambia, ma vi dirò di più nell'appuntamento di domani mattina. Quello che conta, sospirone di sollievo. A fine agosto avremo in campo, là davanti, Zlatan Ibrahimovic e questo mi piace molto. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi perché è la YouTube di Carlo Pellegatti.